Troviamo nella stanza della medicina popolare perché in essa è compresa anche la magia verde e cioè l'insieme di tutto ciò che fa parte della magia che riguarda le piante, che riguarda quindi le erbe e siccome siamo vicini al 4 agosto, il giorno in cui come già sapete ci sarà la festa della lavanda, la prima edizione allora noi vogliamo preparare la gente a recepire messaggi che riguardano la lavanda a tutti i livelli quindi messaggi culturali, messaggi botannici, messaggi farmaceutici eccetera ovviamente alla base c'è sempre l'immaginario collettivo e quindi c'è sempre la magia con le connesse superstizioni, credenze e roba varia Intanto, ripeto, la medicina popolare studia tutto ciò che faceva parte dei rimedi preventivi e curativi con l'aiuto della natura e dell'immaginario in genere La lavanda primeggia tra le erbe di San Giovanni, voi sapete che le erbe di San Giovanni addirittura arrivano a un numero di 250 però la lavanda è la regina in assoluto, non solo ma addirittura a livello storico è anche una delle prime Cronologicamente parlando, se voi provate a cliccare un attimino la voce lavanda sul computer trovate proprio una marea di nozioni, una marea di profondimenti che potete anche fare da soli e vi accorgerete che già presso gli egiziani la lavanda era molto conosciuta e usata sia per l'igiene sia come essenza e sia come mezzo curativo Anche i romani davano molta importanza alla lavanda e le donne già sapevano che era una profumazione unica la più efficace non solo per la persona ma anche per il lavaggio dei panni tanto è vero che lavanda è proprio un termine che viene dal latino e che è il gerundivo di lavare e quindi lavanda è il gerundivo che significa da lavarsi e che in fondo si riferisce a tutto ciò che faceva parte della lavanderia di una volta d'altra parte allora non esistevano i profumi e non esistevano gli ammorbidendi non esistevano ovviamente tutto ciò che oggi in maniera infinita si trova per quindi allora era l'unico mezzo che si trovava per improvfumare la biancheria e di questo si potrebbe continuare all'infinito perché abbiamo dei segni evidenti che danno l'importanza della lavanda e l'importanza che viene poi addirittura evidenziata con i ricami addirittura con il colore della lavanda ok allora qui noi ci troviamo nella stanza della magia verde che sarebbe una disciplina compresa nella medicina popolare e qui abbiamo l'esempio e quindi abbiamo delle erbe, alcune siccate ovviamente che fanno parte proprio della vasta gamma delle piante di San Giovanni in pratica le piante di San Giovanni sono tantissime e tutte hanno una funzione divinatoria una funzione magica e sacrale l'elenco è innumerevole, io vi leggo qualche nome per darvi la piccola idea di quello che è il comprensorio e quindi la gamma di queste erbe che poi hanno una loro storia, una loro leggenda una loro giustificazione anche sacrale e ovviamente applicazioni innumerevoli nel campo della medicina allora per esempio i chiodi di Garovano allontanano i mali e propiziano una vita felice poi sono i fiori di ulivo, il sandalo, il rosmarino, ros ruggiata maris quindi sarebbe ruggiata del mare la malva rosa sarebbe gerani, maggiorana, valeriana, salvia, verbena, prezzemolo che stimola la fantasia la lavanda detta anche spiga di San Giovanni d'altra parte ho detto anche l'altra volta il termine spcanarde in dialetto significa proprio lavanda quindi già il nome che è arcaico, è un dialetto molto antico già segna la presenza di questa erba conosciuta e apprezzata dalle donne appunto anche per la lavanderia la lavanda quindi esiste da tanto tempo e io come ho detto l'altra volta vorrei recuperare non solo le proprietà, non solo la storia, non solo il sapere ma anche l'uso della lavanda e fare di essa come avviene già in tanti altri paesi un simbolo, un'icona anche di San Salvo perché anche a San Salvo se giriamo anche nelle campagne ci sono campi di lavanda, ci sono piante di lavanda in poco maggiore quantità e allora perché non approfittare di questa occasione per riflettere e per dare maggior spazio a questa pianta che potrebbe essere un valore aggiunto a tutto ciò che San Salvo rappresenta nell'ambito dell'agricoltura per esempio la pesca già è un'icona importante quando si pensa a San Salvo si pensa alla pesca perché non pensare anche alla lavanda, perché non valorizzarla, perché non utilizzarla e la festa della lavanda vuole essere proprio questa cioè il 4 agosto vorrei che tutta la gente un po' come si fa per la festa di San Vitale viene in piazza, viene in corso Umberto e porta con sé tutto ciò che lei ha e che ha creato pensando alla lavanda quindi per esempio guardate questa federa questa è una federa addirittura che risale al primo ottocento è una federa che è stata ricamata e quindi addobba e rifinita all'uncinetto dalla mia nonna, la mia nonna Vitalina e se vedete il messaggio amiamoci è il colore viola e il colore della lavanda i fiorellini sono la lavanda ci sono tutti i punti antichi ma di questo parleremo quando andremo nella stanza della sposa e quando analizzeremo anche i vari punti, i vari tessuti il tessuto è ovviamente al telaio questa è l'altra federa ma non a caso qui abbiamo messo perché come dicevo è una pianta che ha costituito anche il simbolo dell'amore un po' come il San Valentino di una volta quindi scambiarsi sentimenti d'amore veniva fatto anche con ricamo allora tornando alla festa della lavanda chi ha un ricamo anche senza il colore viola un ricamo, un pezzo di biancheria che ritiene più caro oppure più diciamo bello da mostrare può farlo e può venire magari si mette d'accordo prima con noi con me e con mia figlia e può portare un lenzuolo, un asciugamano e noi disponiamo banchetti inerenti alla traccia dove potete far mostra di un pezzo di biancheria oppure di un ricamo se l'avete fatto all'uncinetto se a puntacroce avete qualcosa inerente alla lavanda possiamo benissimo poi inoltre a parte tutto quello che volete mostrare quindi può essere anche una bella pittura un acquerello non so, pasta di pane qualsiasi cosa che voi avete fatto alla lavanda potete mostrarlo ma a parte questo voi potete trovare l'occasione per imparare anche tutto ciò che si può fare con la lavanda e i settori sono tutti abbiamo parlato del ricamo abbiamo parlato della magia che porta a giovamento anche se non ci sono delle rispondenze realistiche ma della lavanda si può parlare in maniera innumerevole anche della gastronomia infatti ci sono tante ricette che hanno come ingrediente la lavanda sembra quasi strano ma addirittura si possono fare i dolci con la lavanda i biscotti con la lavanda le torte torte pesche lavanda che poi sarebbe un connubio proprio rappresentativo di San Salvo e chi sa fare una cosa del genere o vuole fare anticipatamente può parlare con me quindi fare qualche dolce e poi proporlo quindi qui dove in Corso Umberto e nella piazza dove appunto collochiamo e stanziamo tutto ciò che riguarda la lavanda che dire in pratica la lavanda può essere anche la protagonista di uno studio approfondito a livello storico come ho detto antropologico e folclorico infatti basta guardare un po' tutte le feste da giugno fino ad agosto e in tutta Italia ci sono luoghi in cui appunto si dà importanza a questa regina blu della vegetazione bisogna precisare come ho già detto che questa festa vuole essere anche culturale infatti nella brochure quindi nella pubblicità noi abbiamo messo cultura e folclore abbiamo messo musica abbiamo messo gastronomia quindi profumi e sapori però vuole primeggiare la nota culturale quella cioè che insegna meglio tutto il repertorio che riguarda la storia della lavanda e le sue caratteristiche la lavanda è una delle erbe adoperate per l'acqua di San Giovanni che si vendevano al mercato sulla piazza antistante la basilica di San Giovanni in Laterano a Roma alla vigilia della festa i botanici la chiamavano lavandula spica o lavandula ufficiale cresce nei paesi del Mediterraneo occidentale in terreni aridi e sassosi con le sue foglie grigio-verdi e i suoi fiori blu-violetti che sbocciano in luglio e agosto ma ve ne sono altre due qualità la lavandula stecas detta steca che richiede terreni silice e ha i fiori porporini dal profumo così intenso da stordire e la lavandula latifolia detta anche spigo che cresce sui mille metri fiorisce un mese dopo le altre e sprigiona un aroma canforato ma è meno apprezzato in erboristeria il nome latino come ho detto percepito letteralmente nella nostra lingua è il gerundivo di lavare perché il fiore veniva usato per profumare l'acqua per lavarsi a cultori così fedeli e convinti che celebrano il suo profumo come l'unico aroma possibile il suo profumo lieve che ancora oggi in molte famiglie impregna lenzuoli asciugamani e il delicato colore dei fiori irradiano serenità e freschezza il profumo insieme con l'indore ha evocato il simbolo della virtù e della purezza dell'anima ma anche del battesimo nei nostri paesi di montagna si diceva che la lavanda combatteva il malocchio gettato sui bambini l'erba lavandaia scriveva finamore è buona a mandar via il malessere ai piccoli se ne piglia una bella mangiata si mette nel paiolo a bollire e poi si rovescia il catino se l'acqua viene torpida quando si lava il bambino allora resta resta guarito dal male se ne ha ma se l'acqua schiarisce il male regnerebbe per sempre a Roma nella magica notta di San Giovanni ci si muniva della spieghetta per allontanare le streghe che se avessero avuto l'ingenuità di avvicinarsi a una persona munita di questo amuleto sarebbero state costrette a contare i figli e i chicchi e come accadeva con le scope di saggina poste di fronte agli usci di casa prima di finire quella lunghissima conta sarebbero state sorprese dall'aurora per loro nefasta che le avrebbe costretta la fuga nel linguaggio dei fiori può significare due sentimenti opposti secondo il contesto da un lato dice il tuo ricordo è la mia unica serena felicità dall'altro per motivi che poco si addicono alla piantina diffido di te distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda si ottiene un olio essenziale di sapore aromatico leggermente amaro e solubile in alcol che si usa come sedativo spasmolitico digestivo e nella preparazione di profumi alla fine del diciottesimo secolo per profumare gli ambienti si adoperavano i pus purri scugli di fiori e foglie lasciati a macerare la lavanda è l'essenza astrale del segno dell'ariete tende ad addolcirne il carattere impulsivo e ruento e quindi a eliminare i contrasti e allontanare i pericoli crea intorno al soggetto un'aura dolcemente luminosa attraendo energie esterne favorevoli ovviamente questo è solo l'inizio perché il giorno della festa della lavanda ci sarà chi spiegherà meglio ad personam quello che può essere il rimedio per ogni vostro problema tra l'altro nello stesso giorno noi daremo a chi avesse il desiderio una specie di pronostico che si basa appunto sugli alberi e sulle erbe in maniera particolare sulla lavanda ma di questo parleremo proprio il giorno sarà una sorpresa del giorno appunto 4 agosto dedicata alla lavanda questa è una delle tande tavolette dove noi abbiamo scritto delle caratteristiche della lavanda e voi il giorno dedicato alla lavanda ne trovate tantissime le potete leggere e quindi potete se volete se avete curiosità sapere di tutte e di più inoltre già ho contattato alcuni pittori qualcuno porterà delle pitture proprio dedicate alla lavanda e se voi ne avete a casa potete esibirle e metterle quindi a disposizione dei visitatori qui per esempio abbiamo precisato ciò che avevo accennato prima ma che può essere ampliato ed approfondito perché è vero che la lavanda è l'essenza astrale del segno dell'ariete però è anche vero che per ogni segno zodiacale la lavanda ha una funzione precisa che poi appunto vi diremo intanto la lavanda tende ad addolcire il carattere impulsivo ed irruente ad eliminare i contrasti e allontanare i pericoli crea col suo profumo un'atmosfera luminosa attraendo energie esterne favorevoli distillando in corrente di vapore i fiori freschi di lavanda si ottiene un olio essenziale di sapore aromatico leggermente amare sensibile in alcol che si usa come sedativo spalmolitico digestivo nella preparazione di profumi nella magica notte di San Giovanni ci si muniva della spighetta per allontanare le streghe se avessero avuto il desiderio di avvicinarsi a una persona munita di questo amuleto sarebbero state costrette a contare i figli e i chicchi come accadeva con le scope di Sagina in pratica quello che vi stavo dicendo prima è scritto qui quindi voi volendo potete fare una bella passeggiata in Corso Umberto entrare anche nella stanza della medicina popolare della giostra della memoria e apprendere da solo e leggere da solo tutto ciò che riguarda la lavanda e sarebbe uno degli aspetti appunto della festa l'aspetto culturale poi ovviamente c'è anche l'aspetto folclorico infatti poi metteremo e vedrete le famose tavole per le pen e quindi delle tinozze antiche dove appunto si lavava una volta i panni quando cioè non si andava al fiume perché sapete che i panni si andavano anche a a lavare al fiume e questa sarà anche un'altra sorpresa coreografica che vedrete durante la festa della lavanda volevo dire molto importante che io vorrei tanto che qualche bambino qualche ragazzo che ha imparato a suonare specialmente se ha imparato a suonare che posso dire la fissa armonico o addirittura la dubbote che la dubbote sarebbe lo strumento musicale per me più folclorico più caratteristico anche più rara da trovarsi qualche giorno prima può venire da me e quindi decidere insieme il da farsi e quindi esibirsi sempre nell'ambito dello stesso tema ovviamente apro una parentesi e cioè preciso che in fondo per arrivare a fare questo lavoro arrivare a proporre una festa del genere e diciamo dare una guida abbastanza esauriente dietro ci sono tanti studi e io ovviamente ho attinto a livello bibliografico da tantissime fonti e una delle a parte finamore panza cioè i nostri antropologi p3 palermitano eccetera ci sono comunque dei testi che sono molto interessanti tra cui per esempio il testo di Mersenguet è il mio erbario che è un autore francese e mi piace leggervi una sua esperienza che fa capire a che punto arriva diciamo la funzione terapeutica della lavanda e lo scrittore ma soprattutto botanico e studioso scrive una una delle tragedie della mia infanzia ha avuto per protagonista la nostra cagnetta Miss che era stata morsa da una vipera mio padre se ne andò in collina a cercare un giuffo di lavanda con il quale strofinò a lungo la ferita della povera Miss l'indomani Miss stava già meglio e il giorno dopo era salva col senno di poi mi sono reso conto che uno dei nomi popolari della lavanda lavanda aspide è probabilmente giustificato dalla virtù di questa pianta nel curare i morsi dei serpenti quindi come vedete anche in medicina e poi senza approfondire perché non è il caso e ci sono proprio delle rispondenze proprio nei medicinali in fitoterapia consiglio di servirsi della lavanda nella stessa maniera in cui usiamo le altre erbe aromatiche della famiglia delle labbiate è grande amica dello stomaco è diuretica sudorifica vermifuga e stimolante un mio paziente sofferente di vertigini mal di testa nausee e vampe di calore interrotte deve la sua guarigione alla lavanda un altro afflitto da flatulenza allo stomaco e all'intestino inappetenza e coliche di varia natura si è rimesso del tutto grazie alla lavanda un altro ancora un nevrastenico sofferente di tachicardia e tremore inarrestabili dopo una cura bassa di fiore di lavanda guarì completamente quindi la lavanda è benefica nella cura dell'asma dei deperimenti generali dell'influenza dei malanti del fegato e della milza dell'itterizia delle congestioni della leocorrea della debolezza degli occhi potete usare una volontà in frizioni lozioni e bagni per curare traumi contusioni lividi e distruzioni la raccomando anche agli sportivi vittime della classica cotta la lavanda quindi è miracolosa per guarire anche reumatismi e gotta i bagni di lavanda dovrebbero essere obbligatori per mantenere i bambini in buona salute ci avverremo delle virtù di questa pianta anche per curare malattie della pelle eczeme acne eccetera scottature malattie venerie che certo non guarisce ma che associata alle altre terapie contribuisce ad alleviare e infine le ulcere infiammazioni e piaghe infettate le inalazioni affrettano la guarigione dei raffrettori delle influenze dei mali di gole e delle bronchiti i gargarismi gli sciacqui guariscono le piccole lesioni della bocca e riescono perfino a a debellare la paralisi momentanea della lingua e la balbuzie grazie alla loro azione distensiva dei nervi e dei muscoli contratti la lavanda applicata in impacchi sul fegato aiuta questo delicatissimo organo a svolgere le sue funzioni mentre in frizioni sul petto tonifica i polmoni e accelera la guarizione di polmoni pleuriti e congestioni polmolari certo è anche un po' diciamo prolisso sarà anche stucquevole questa lettura che sembra evadere dal nostro fine che è quello ludico e quello folclorico però ci tengo a precisare che non bisogna sottavalutare la lavanda perché essa è veramente di grande importanza e aiuta a svolgere e a rimediare e a risolvere dei problemi nella nostra quotidianità anche a livello di salute diciamo naturalmente la giusta della memoria non vuole fare tutto non è una factotum ci mancherebbe vuole soltanto darvi delle nozioni degli indirizzi vari che voi poi potete potete svolgere più concretamente e meglio nelle sedi giuste quindi in farmacia quindi nell'erboristeria ci sono delle erboristeria a San Salvo veramente di grande pregio dove voi quando andate già potete parlare di lavanda e chiedere ciò che riguarda la lavanda nei vari momenti e nelle varie situazioni e nei vari problemi quindi anche diciamo a livello propedeutico più che altro che significa imparare ad imparare quindi conoscere sapere a che serve la lavanda per poi utilizzarla comprarla crearla in altre sedi perché la giusta della memoria è diciamo innanzitutto e soprattutto una dispensatrice di nozioni di sapere che voi poi a un a uno potete approfondire e far tesoro in altre sedi a conclusione vorrei fare un appello ai barristi non so pasticceri ristoratori e tutti coloro che sicuramente se vogliono possono integrarsi e partecipare a questa festa proponendo magari ricette magari dolci a riguardo e in anteprima cioè anticipatamente se me lo fate sapere o se volete qualche ricetta a riguardo io posso inserirvi in questo programma che si svolge sì in corso un verso in piazza però che come ho detto all'inizio vuole coinvolgere tutto il paese io vorrei aggiungere una nota per me molto importante innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che mi telefonano che mi fermano e che veramente mi gratificano del lavoro che stiamo facendo quindi in pratica Vitalina Orazio sono veramente molto pazienti e hanno dato spazio a un lavoro che almeno trova rispondenza nella gente quindi vi ringrazio di questo inoltre voglio dire che per la festa della lavanda se qualche sponsor vuole partecipare lo può fare facendo che cosa venendo da me e ricevendo in qualsiasi dose in qualsiasi maniera un cesto di lavanda personalizzato e adeguato al vostro logo è un modo per esibire la propria immagine immagine ma soprattutto per dimostrare la collaborazione che in questo caso non si limita al solo logo alla sola scritta ma a un dono che io faccio loro e questo è un esempio quindi se volete partecipare non si tratta di cifre di cifre alte potete fare con 5 euro 10 euro quello che vi pare e così io metterò tanti cesti quanti sono i gentilissimi sponsor che non sono solo impresari per esempio l'avvocatessa De Virgilis altri dottori professionisti hanno partecipato se volete farlo sarebbe un bel regalo a me e al paese che si giova di questo evento diciamo e speriamo simpatico e utile grazie a tutti grazie a tutti